Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. La scorsa settimana abbiamo parlato del conflitto narrativo e della sua importanza all'interno della teoria della narrazione e della scrittura delle quest in generale. Lì però si parlava di conflitti che i personaggi hanno con altri personaggi o con il mondo di gioco. Se il conflitto all'interno della storia non solo è ben accetto ma è praticamente indispensabile, prima o poi come Master vi capiterà di dover gestire dei conflitti non tra personaggi ma tra giocatori e quella probabilmente sarà la peggiore esperienza che avrete come Master. Questa settimana cercherò di passarvi un paio di consigli che io come Master nel corso degli anni ho visto funzionare. Non aspettatevi però che questo risolva sempre la situazione o che grazie a questo non avrete mai fastidio al tavolo. Cominciamo subito col settolineare un errore micidiale che ho visto fare a parecchi Master. Innanzitutto cercate di non essere voi quelli che portano la zizzania al tavolo. Questa è una cosa che dovrebbe essere scontata ma nella mia esperienza non lo è affatto. Anzi ho visto ben più di un Master e non necessariamente Master principianti porsi con i loro giocatori in competizione diretta e mantenere un atteggiamento competitivo con i personaggi e con i giocatori stessi. Come se avessero qualcosa da dimostrare, come se dovessero costantemente cercare di convincere gli altri che loro sono i migliori giocatori al tavolo. Se voi foste i migliori non avreste bisogno di dimostrarlo. Lo scopo del gioco di ruolo è quello di raccontare una storia in maniera collaborativa e il fatto che voi come Master siate quelli che muovono gli antagonisti dei personaggi non fa di voi l'antagonista dei giocatori. Masterare è già qualcosa di molto complicato così com'è cercate di non mettervi bastoni tra le ruote da soli. Per quanto vi è possibile cercate di fare sempre un'opera di prevenzione. Partendo dalle cose più ovvie fate in modo che tutti quelli che partecipano al gioco allo stesso tavolo siano d'accordo su che cosa vogliono per il gioco e che cosa trovino divertente nel gioco di ruolo. Se allo stesso tavolo chiamate il giocatore puramente narrativo che ritiene qualunque regolamento più lungo di una pagina inutilmente complesso e che trova aberrante l'esistenza di un sottosistema tattico all'interno di un gioco di ruolo con il giocatore appassionato di regole e di meccanica che risiene che la sua massima espressione all'interno del gioco sia la costruzione e l'ottimizzazione del suo personaggio non avrete alcun modo di organizzare qualcosa che li metta d'accordo e che piace ad entrambi. Fate attenzione nessuno di questi due estremi degli atteggiamenti e intrinsecamente sbagliato. Quello che è sbagliato è cercare di forzare le persone a giocare in un modo a cui loro non piace. A persone diverse piacciono giochi diversi. Al di là dei possibili contrasti sul gioco di ruolo evitate comunque di avere al tavolo persone che sapete che per motivi loro non si sopportano sono già in contrasto tra di loro. Al di là di rovinare il divertimento agli altri questo farà un sacco di rogne a voi e rischiate anche di litigare con queste persone al di là del gioco di ruolo stesso. Non essere competitivi, assicurarsi che tutti al tavolo vogliono fare la stessa cosa e essere certi che non ci siano problemi pregressi tra i giocatori è un buon inizio. Non è però la fine del lavoro. Prima di cominciare la campagna vera e propria in sessione zero mentre state collaborando con gli altri giocatori sulla creazione dei personaggi fate in modo che questi personaggi non siano per qualche motivo portatori di problemi all'interno del party. I giocatori devono essere lasciati liberi di esprimere come preferiscono le proprie motivazioni nell'interpretazione del loro personaggio, nella costruzione del personaggio e in tutte le scelte che lo caratterizzano. Questo però non deve andare a discapito né della quest né del divertimento e gli altri. L'introduzione di eventuali personaggi giocanti che possano essere in conflitto con altri personaggi giocanti, l'abbiamo visto nel video della settimana scorsa, non è di per sé qualcosa di negativo e voi come master non dovreste intromettervi in questo tipo di relazioni tra i personaggi perché è qualcosa che riguarda i giocatori e la loro libertà di espressione al tavolo. Tutto questo però fintanto che i dissidi tra personaggi giocanti non finiscono per diventare dissidi tra giocatori o che comunque questi dissidi non vadano a negare la possibilità agli altri di giocare. Due personaggi che discutono tra di loro su idee filosofiche differenti riguardo ai temi della campagna sono probabilmente un'ottima aggiunta che dà profondità alla storia e anche magari due personaggi che bisticciano tra di loro per motivi minori potrebbero essere la possibilità di inserire un momento buffo, una linea comica, comunque un momento più rilassato che potrebbe anche essere utile durante campagne molto più drammatiche. Due personaggi che passano costantemente il tempo a litigare screditandoti a vicenda e fondamentalmente bloccando il gioco per tutti gli altri, no, non sono affatto una buona aggiunta alla campagna. Nel caso i problemi tra due personaggi sfocino nell'impossibilità di giocare per gli altri o sfocino in problemi tra i giocatori, queste cose vanno impedite e possibilmente, se durante la creazione del personaggio vedete che due personaggi sono talmente diversi tra di loro che semplicemente non avrebbe senso che lavorassero assieme nella stessa campagna, queste cose non devono essere lasciate fare. Se i giocatori insistono a voler fare i due litiganti costanti, fategli capire che possono andare a dimostrare la loro libertà di espressione al tavolo di qualcun altro. Non avere problemi progressi nel gruppo e avere un party formato da personaggi che sono effettivamente spinti a collaborare tra di loro e che quindi porteranno i giocatori a collaborare tra di loro è già un enorme passo avanti e dovrebbe essere la condizione ideale per giocare di ruolo. Neanche questo però vuol dire che non avrete problemi. Le persone possono cambiare, anche le relazioni tra le persone possono cambiare, la coppia di giocatori si lascia per motivi loro, qualcuno cambia lavoro e quindi ha orari diversi e arriva le sessioni a ritardo o salta le sessioni, gente litiga per i motivi più disparati dai grandi temi nella vita, la politica e lo sport. Tra i vostri compiti come master c'è quello di fare in modo che il gioco continui ad essere divertente per tutti i partecipanti, quindi se dovessero sorgere problemi del genere al tavolo sta a voi intervenire per risolvere la sessione. Non cercate mai di risolvere questioni del genere che non riguardano la storia del gioco all'interno del gioco. Ammazzare il personaggio di un giocatore perché quel giocatore si sta comportando male al tavolo non è qualcosa che abbia senso fare e non fa altro che rovinare il gioco per tutti gli altri e creare poi dei problemi a voi per andare avanti con la storia. I problemi fuori dal tavolo vengono risolti fuori dal tavolo. normalmente la cosa che viene consigliato di fare è prendere da parte i giocatori e parlare tra di loro per vedere di capire da cosa derivano questi problemi e come far a risolverli. Fate attenzione però che alcuni tipi di problemi richiedono delle competenze specifiche per essere affrontati e risolti che se voi non avete non potete cercare di risolvere problemi che non sono di vostra competenza se non rischiate di peggiorare la situazione e basta. E questo vale sia che sia un gruppo di persone che abbiano litigato che facciano casino sia che sia anche un singolo giocatore che dia fastidio al tavolo. Sì, gli esseri umani sono creature meravigliose che rischiano anche di litigare da soli delle volte. Nel caso però le parole non bastino, voi come master non potete fare altro. Essere il master non vi dà autorità sulla vita delle altre persone. Ogni persona è libera di fare le proprie scelte e di comportarsi nella maniera che preferisce anche se a voi queste scelte non piacciono e non condividete le sue idee. Quello che vi rimane da fare come master però se questo impedisce il divertimento degli altri al tavolo è semplicemente allontanare questa persona o queste persone dal tavolo. Capisco che magari potrebbe sembrarvi brutto, magari queste persone sono vostri amici e vi dispiace non giocarci più assieme, magari avete paura che questo si trascini anche nella vita reale e alla fine queste persone finiscano a litigare con voi. Comprensibile però in quanto master il benessere del tavolo va al di là dei vostri interessi personali e quindi per una questione di etica non potete perdere il tavolo e far perdere il divertimento agli altri per non avere problemi voi. Se poi vi può servire come giustificazione morale sappiate che in un caso della gente venga buttata fuori dal tavolo perché non è in grado di comportarsi civilmente la colpa è loro che non sanno comportarsi non voi che li allontanate per il benessere degli altri. Video un po' più depressivo del solito ma ogni tanto tocca anche parlare di cose un attimo più concrete e di problemi reali al tavolo. Non vi preoccupate dalla prossima settimana ritorneremo a parlare di tutti quei guazzabugli esoterici riguardo la tria nella narrazione che piacciono tanto a tutti. Diciamo invece che per questo video è tutto. Scrivetemi nei commenti se avete mai avuto problemi di litigi al tavolo o cosa del genere e come li avete risolti. Queste sono cose che sono veramente importanti soprattutto per i neofiti e avere degli esempi concreti in questo caso conta molto. Ovviamente scrivetemi anche se avete domande, dubbi, perplessità. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete avere nuove notifiche. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.